Che è il laghetto? Ma no, che è il laghetto? Andiamo a investire qualche... Che Montrucchio ci ammazza? Prego, prego. Dai, facciamo un giro turistico, no? Ma dove vai? Andiamo in due all'ora. Guarda che tocca, è lì sopra. Tocca! Tocca lì. Guarda la scrittura qua. Vai, vai. Ma non è teso, Anuka. È un po' teso, ragazzi. È un po' teso, guarda che bicicletta.